Benvenuti al TG Acquatico di Swim Beads, Gianluca Guarnieri al microfono e con me il direttore, il Deus Ex Machina di Swim Beads, Cristian Zicca, ciao Cristian Buongiorno a te, troppo buono come si dice, è una novità di questo telegiornale acquatico, oggi non ci parliamo addosso ma raccontiamo solo gli ultimi scoop di Swim Beads Esattamente, se ne facciamo, ci possiamo anche, facciamo autopubblicità Ci facciamo autopubblicità perché le nostre indiscrezioni e le nostre fonti autorevoli ieri hanno fatto sì che abbiamo pubblicato un paio di servizi sulla Pellegrini Dico questo perché siamo a un punto di arrivo della questione e della querelle, come si dice in Francia, tra Filippe Lucas e Federica Pellegrini Ci siamo, siamo vicini, sembra che, non dico l'accordo definitivo sia lì a venire ma quantomeno l'idea e il pensiero che ha Filippe Lucas di allenare Federica Pellegrini in modo definitivo E che ce la porti da qui al 2016 di Rio vincente Invece parliamo sempre di campionesse, un'altra grande campionessa ha dei problemi e si ritira Rebecca Edlington ha dichiarato il suo stop con l'attività agonistica dopo le Olimpiadi in chiaroscuro di Londra 2012 In chiaroscuro è la famosa sindrome post-olimpica che colpisce ancora e non ha colpito solo lei, ha colpito anche Lord Manadou Peraltro Lord Manadou è vero che c'era stato un rientro e poi sembrava dovesse finirla lì in quel di Chartres Ha annunciato subito dopo, praticamente, che il costume l'avrebbe appeso come l'ho appeso l'altro ieri L'Edlington che comunque dice che non va in pensione, non so cosa farà nel mondo del nuoto Non penso all'allenatrice A 23 anni A 23 anni della giovanissima età, certamente è una perdita Dobbiamo considerare che comunque il nuoto è usurante ma è usurante anche dal punto di vista psicofisico Nel senso che è difficile mantenere certi livelli, è difficile pensare a quello che si farà fra quattro anni Esattamente, invece buone notizie per Andrea Di Nino che aggiunge alla sua scuderia anche un altro grande atleta come Govrov Di Nino è uno dei nostri, mi passi il termine, fuga di cervelli acquatici Perché è vero che Di Nino si è costruito questo management in quella splendida realtà che ha di N Project in quel di Caserta Fatta esclusivamente di atleti di altissimo livello, brasiliani e russi L'ultimo è, come dice Benetout Govrov, che è un signor atleta E certamente Di Nino è uno dei più internazionali dei nostri Non è l'unico allenatore italiano da esportazione Ma certamente è quello di più alto livello, di alta considerazione che allena e che sta nel team della Russia Perfetto, allora una disamina velocissima dal punto di vista tecnico Degli argomenti più importanti degli ultimi giorni natatori italiani ed internazionali Cristian, allora ci congediamo così e diamo appuntamento alla prossima edizione del TG Aquatico Certamente il carinissimo da te ben condotto TG Aquatico Seguiti su su Inbiz perché ogni giorno, ogni minuto, ogni ora c'è sempre qualche news interessante E questo mondo del nuoto si sta scaldando, questo è l'anno dei mondiali, ricordiamocelo sempre Dove c'è nuoto c'è su Inbiz Grazie 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 Grazie